Sui banchi di scuola gettando lo sguardo all'impresa. L'iniziativa parte dall'ISI Marconi con la collaborazione di Federmelger Piacenza e si inserisce nella programmazione di alternanza scuola-lavoro. Nasce così il progetto Giovani e Impresa, rivolto a 420 studenti delle classi quarte e quinte, un percorso formativo integrato al resto della didattica e della durata di sei giorni, nel corso del quale gli studenti avranno modo di avvicinarsi alle dinamiche delle imprese, affrontando temi di ordine non solo tecnico ma anche pratico, con l'obiettivo di orientare le loro scelte e competenze individuali da spendere nel mercato dell'occupazione. Abbiamo sviluppato di comune accordo un programma didattico e cominciamo a trasferire ai nostri colleghi di domani le esperienze che noi abbiamo accumulato nel tessuto industriale italiano. Quali sono i punti principali di questo programma? Vengono distinti due gruppi di studenti, quelli delle classi quarte che si approcciano a concludere nell'anno prossimo la prima parte del percorso formativo e quelli delle classi quinte che invece una parte di loro entrerà nelle aziende auspicabilmente piacentine ed un'altra seguirà il percorso universitario vero e proprio. Per cui nella prima fase forniremo le informazioni relative al concetto stesso di azienda, che cos'è un'azienda, come è organizzata, come si muove, con che logiche ragiona. Nella seconda parte invece, riservata alle quinte, è più orientato al concetto di creazione del valore, al concetto di soddisfazione della clientela e soprattutto al concetto di come si mettono a disposizione dei propri skill personali, come questi possono essere utili alle aziende nelle quali si va a lavorare. Il valore, come vi dicevo prima, non è il valore...